Silenzio Marco, allora, e vabbè ma devo fare la cosa il video, allora, buonasera, buongiorno, ciao, ciao è troppo confidenziale, niente, sono Cinzia Marseglia e da un po' di anni, anche quest'anno, presento il laboratorio donne a Zelig, qui in Viale Monza 140, cosa vi devo dire? Divertentismo, belle persone, non lo so, venite, venite a vedere, ecco, la solita, quella che è sempre, sempre, la mano di persone, ciao, venite. Fondo, rigolo! Merda, merda, merda! Buonasera, sono Marco Del Conte, autore di oggi le comiche dal 2000 circa, è un laboratorio di comiche donne che si tiene a Zelig, quando c'è, venite a vederlo perché vi divertirete, non si è mai lamentato nessuno, e le donne comiche ci sono, fanno ridere, noi le abbiamo qui tutte le volte che c'è lo spettacolo, per cui vi aspettiamo. Ciao, sono Alessandra Ierse, faccio la comica da anni qui a Zelig, allora, il mio personaggio è la Bruna, che è una chirurga estetica, che però usa materiale edile, perché è molto meno invasivo del botulino, ma molto più efficace. Dai, Osti! Ciao, io sono Giovanna Donnini, buonasera anche, buonasera, buonasera, dipende da che ora uno guarda. E che è quello il fatto, quindi come cazzo li devi salutare, vabbè, allora, ciao, ciao, allora, Giovanna Donnini. Cinzia Marseglia, lei è la numero uno delle conduttrici. Allora, le persone ci credono. Eh sì, è così, io ci, talentuosa, vivace. Così. Così, intelligente. Capello bianco. Conduce, pensa a tutte le altre. Lei invece è Giovanna Donnini, la numero uno delle autrici per le donne, è così, leva la mano, che fanno le, così, che lavora con le donne, una donna che lavora per le donne. Che cosa vi devo dire più? Però non sono da sola, qua c'è un gruppo di gente che... di autori, di diligenze, di intelligenze. E di persone che sanno il fatto loro. Loro. Venite. Venite. Qui. Qui, non lì. Mia le Monza 140. È bello.